Salve! Salve! È lei l'istruttore di scuola guida più famoso di tutta allo santo? Certamente, sì, mi dica pure! Sì, vorrei prendere lezioni, vorrei imparare a guidare, insomma, sa com'è? Io ho un compagno di videogiochi che si chiama Steph, che mi prende sempre in giro e dice che non so guidare, quindi penso che sia arrivato il momento di imparare e diventare una bravissima guidatrice. Sì, ma perché siete vestita così, scusi? Non c'è bisogno per guidare una macchina, quella è per sciare. Ma io... no, non è per sciare. Sì, glielo garantisco, io sono un istruttore di guida su tutto. Mi hanno detto in un negozio di auto e mi hanno detto che questa serve per guidare. Le hanno mentito. Eh, cavolo, me le hanno fatta pagare un sacco di soldi, ma dico io, questi negoziati... Guardi, guardi il mio abbigliamento, vedi? Non le prendo più le lezioni. Questo è un abbigliamento adatto a un istruttore di scuola guida, ok? Eh, ma lei è l'istruttore, io sono l'allievo. Sì, ma è automaticamente adatto a guidare, capisce? Però lei non mi ispira a tanta fiducia, eh. Perché? Per i tatuaggi? No, un po' per tutto, forse per la faccia. L'ammazzo, le spacco la faccia, le rubo alla macchina e me ne vado pure via, guarda, se ne vada, se ne vada. E ragazzi, come va? Io sono Firinichi. E io sono Stef, che sto giocando GTA V. E oggi siamo qui con un video molto particolare. Allora, Stef mi ha proposto di prendere delle lezioni di guida su GTA V. Esattamente. E io non so perché ho accettato. Va perché? Ma dai, ma non è vero, è una cosa molto carina. Praticamente simuleremo... Non è carina, è strana. Come si dice, l'insegnare a guidare su GTA V. Le lezioni di guida? Sì, però è un po' particolare su GTA. Scusi, lei non mi sembra però molto istruita. Allora, abbiamo rispetto a cinque secondi fa. Non so neanche come si chiamano le lezioni che lei deve dare. Cioè, non è che mi ispira così tanta fiducia, glielo dico proprio. Sono un istruttore abusivo, mi paga tre dollari all'ora, non faccia domande. Ok. Sai quanto costa normalmente? La prima cosa che si fa quando si sale su una macchina? Si mette la cintura. Ok, metti la cintura. Messa. Sicura? Sì, messa. Io non ti ho visto muoverti. È perché è rosa, si confonde con la mia tuta. Ok, poi cosa si fa? Si guardano gli specchietti. E cosa noti a sinistra? Che è tutto a posto. Mancato il finestrino. No, ma quello è normale, l'ho abbassato io. Non è niente. È bucato. No, non è bucato, è aperto. Ma andiamo... Allora, dagli specchietti, sì, se mi metti un po' quella a destra, magari si stemma tu meglio. È solo quello il problema, certo. Sì, è quello. Non vedo bene da destra. Allora, ultima cosa da controllare prima di partire. Cos'altro devo controllare? Il freno a mano, signorina. Eh, ma quello è ovvio che è tolto. Guardi, guardi, sto già andando. Allora, cosa devo fare? Allora, allora, prima di tutto facciamo un gilettino in questi parcheggi per iniziare ad ambientarla. Poi dovremo fare un po' di test di ripasso sui quiz, perché non so se... Non sono sicuro che le sta la segnaletica, quindi non vorrei rischiare incidenti, si mi dica. Allora, primo appunto. Ok. Io non ho mai visto segnaletica su GTA V, quindi non so perché mi dovrebbe servire. Perché va studiata, ok? Ah, ok. Partiamo dal girare a destra, quindi resti nella zona dei parcheggi così non c'è nessuno da investire e vada appunto alla destra. Molto brava. Continua a girare. Stiamo molto attenta, non deve andare sull'aiuola, non deve spattere. Ma guardi che contro... L'auto, perfetto. Ed è efficace qui queste curve che davvero le se le sogna la notte. Con calma, non c'è bisogno di correre, signorina. Vada piano. Non lo sto andando, sto andando pianissimo. Con calma. Ok, ok, molto bene. Adesso proviamo a fare un parcheggio. In retromarcia. Perché dovrei fare... Attenta! Tutto sotto contro. Allora, andiamo qua. Sì, 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 sì. Io non li so fare, manco nella realtà. Scusa, signorina. Se vuole le posso spiegare come si fanno. No, è tutto a posto, tutto a posto. Guardi, guardi, guardi. Allora. A posto. Poi va un po' avanti. Ti apri un po' di più. Sistema. E guardi, ecco. E qui c'è spazio anche per un'altra macchina. E risparmiamo lo spazio dei parcheggi. Cioè, se così, vedi, non ci sarebbe il problema di non trovare mai parcheggi quando esci per la città, insomma. Mello male che ce l'hai adesso in giro per la città, vero? Sì, guarda, risolverai tantissimi problemi. Certo. Adesso me ne faccio una spina di pesce dritto. Si chiamano spina di pesce gli altri. Lo so, quello. Non si sa mai, signorina. Dai, ma tu per chi mi preso. Vado un po' avanti e poi giri a destra e parcheggi. Ok. Fatto. Questa era facile, dai. Davanti è sempre facile. Ok, bravissima. Adesso facciamo un po' di quiz. È pronta? Vado, vado. Cioè, che quanti sei affetto? È ridicolo! Sono tutte con le immaginette. Come faccio a farti quiz così? Scusa, scusa. Un attimo, un attimo. Devo cercare quiz diversi. Ok, le ho trovate adatte. Primo soccorso. Il fine... Il fine. Ok, ok. Ci sono, ci sono. Scusi. Non lo so lei, io sto spontanea. Scusi sempre che mi paga tre dollari, ok? Sono qui serissima. Sì, prego, prego. Non mi giudichi. Allora, il fine del primo soccorso è quello di cercare di mantenere in vita il ferito con semplici e immediati interventi. Vero o falso? Falso. Perché? Perché lo devi investire e basta. Cioè, cioè, dai. Allora, spiegami quando è che su GTA ci siamo mai fermati a soccorrere qualche cibo. Signorina, mi guardi negli occhi? Oh, oh, oh. Era per guardarti meglio. Però non si girava, scusa. Abbassi la pistola, ok. Ma è finta, è solo per far spaventare chi vuole aggredire. No, non mi sembra per niente finta. No, è finta, si finta. Comunque ha sbagliato, era vero. Ovviamente deve cercare di tenere in vita le persone. Scusa, ma perché devo perdere tempo? Ascolti la prossima domanda e cerchi di azzecarle che altrimenti non le do la patente qua. Nell'intervento di primo soccorso bisogna allontanare in ogni caso il ferito dal posto in cui si trova. No, lo lasci lì e te ne vai. Un conducente che ha assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche può recuperare velocemente l'idoneità alla guida se assume cibi piuttosto salati? È una domanda, signorina. Allora, siccome di solito quando ti bevi magari lo accompagni con qualche patatina salata. Quindi sì, mi sembra giusto guidare con una mano tipo la birra o luisti e nell'altra con le patatine. La domanda è se mangiando cose salate si supera una sbronza. Sì. Ma no. Consolini, sì, sto dicendo proprio a voi. Arriviamo a 3.000 like, altrimenti saranno guai. Guardi, ho capito che con la teoria è davvero terribile. Spero che con la pratica sia un po' meglio. Usciamo dalla zona del parcheggio. Ok. Vada molto, molto, molto piano, per favore. Quindi svolti a sinistra, si fermi qui. Allora, ferma. Perché mi devo fermare? Non c'è nessuno. Vada. Grazie. Adesso si deve fermare, prima devi andare alla strada e devi controllare se alla sinistra c'è qualcuno. Perché nel caso della precedenza... C'è nessuno, eccoci qua. Adesso vada a destra ancora e si fermi perché c'è lo stop. Ah, l'unico segnale, cartello strada e le digiti. Ad ogni stop bisogna fermarsi a priori. Quindi, ok. Ma non c'è... Non è vero che ti devi fermare a priori? Cioè, tu vedi che non c'è nessuno o vai dritto? No, cara mia. Ti bocciano se vai dritta. Lo so. Solo con la precedenza puoi andare dritta se non c'è nessuno. Vada, 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 vada. È un po' più lenta, per favore. Ma sto andando pianissimo. No, deve andare a 40 e sto andando a 60. Non l'ho toccato. Non l'ho toccato. Se guardi la macchina intatta, guarda. Ho visto le scintille nella sua macchina. Non è vero neanche... Guardala. Guarda il muso, neanche un graffio. Guarda. Mi ha toccato lui. Guardi. Guardi qua. È raschiato di fronte. Quindi lei ha colpito quella macchina. Vada piano. Adesso, dopo... Deve parcheggiare tra la macchina nera e quella bianca. Ok. Ok. Quindi, ovviamente, in retromarcia. Ok. Si affianca così. Allora, bisogna vedere. Metta il finestrino di dietro. Inizia ad andare così. Ok. No, no. Non ci siamo. Sistemi la manovra, per favore. Ok. Stia attenta. Stia attenta a non sbattere. Non può salire atta con l'aiuola. Così ti raddrizzi. Ed ecco qua. Poi ti metti così. Vai un po' indietro. Stia attenta a non toccare questo. E guardi che parcheggio spettacolare che ho fatto. A parte l'aiuola, va... Ma quella era già così. Va abbastanza bene. Ok. Pronto? Scusi? Sì. Sì, ha ragione. Anche io penso che Steph faccia schifo e che non sia per niente magnifico. È contromano e sta parlando al telefono mentre guida. Ma lui non ci crede. Fa schifo anche come istruttore. C'è l'istruttore che mi ha mandato. Deve vedere le lezioni che mi sta facendo. Fanno totalmente schifo. Lei, l'hai capito? E non sto imparando nulla. Con che coraggio? Lo sto pagando la bellezza di tre dollari all'ora. Appunto. C'è un furto, un furto. Davvero. Sì, dai. Vado che adesso continuo la lezione. Ciao. Ciao. Presto, presto. Ciao, 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 ciao. Mi rifiuto di insegnarle qualcosa, lei. È soltanto una criminale che dovrebbe stare in prigione. Io me ne vado. Arrivederla. Magari mi mettessero in prigione dove devo stare. Ma magari. Si tenga i sui tre dollari. Io me ne vado e mi rifiuto. Allora, dove sta andando? Me ne sta andando. Mi ha detto che lei non ha finito di farmi la lezione di guida. Cosa sta facendo? Lei non ha finito di fare la lezione di guida. Quindi lei adesso torna qui. Mi lascia in pace. E la finisce. Ha capito? Chiamala polizia. Ha capito che deve finire la lezione di guida. Chiamala polizia. Di guida. Perché altrimenti io l'ho maltratto. Ok? Ok? Torni su. Qualcuno mi aiuti. Torni su. Qualcuno mi aiuti. Torni su. Una cosa molto importante da imparare è a pulire la macchina. Quindi. Per levare il tuo sangue dal corpo. Esatto. Perché tanto ho capito ormai che tipo di. Di persone lei. Almeno. Meno male che l'ha capita. Ok. Vada, 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 vada. Andiamo, andiamo. È acceso? Allora, signorina. Per la prima volta da quando abbiamo iniziato questa guida. Sta facendo qualcosa come si deve. È troppo d'acqua con i vetri rotti però, eh. E vabbè. Vedi, vedi. Stanno spassolando la faccia. Che qualcuno vada a lavarci una macchina con la macchina ridotta così. Vabbè, però dovrebbero tenerne conto di questa cosa. E fare una pulizia un po' più efficace. Io te lo dico. Allora, un altro po' d'acqua. La doccia ci hanno fatto. Ma la pulita secondo te è almeno il sangue? Io stavo cercando un posto dove mangiare. Forse, però questo è un bel posto. Scusi, ma le sembra. Abunation Gun Club. Le piace? Non posso saltare così in una strada. No, ma andiamo a prendere un po' di armi. Non le piace? E' una criminale. Non voglio andare a comprare armi con lei, scusi. Cosa ha detto? Mi sta dimovomirando. Cosa ha detto? Come si è permesso di dire che io sono una criminale quando sono semplicemente una povera donzella che si vuole difendere in un mondo di altri criminali. Perché non è che lo sono. Guarda, le dico una cosa. Un consiglio da istruttore, ok? Sì. Lei non ha bisogno di essere difesa in nessun modo. La gente ha bisogno di difendersi da lei. Non è vero. È un bugiardo. È un bugiardo. Si fidi dell'istruttore. Ho capito tutto, ok? Si sorpassa così, guarda. Ok, fin qua va bene. Mi stavo per investire, l'ha visto? Ma sta correndo un po' troppo. L'ha visto? Mi stavo per investire. E sta superando a destra. Ti ho detto che deve andare a sinistra, signorina. No, io sto andando nella mia corsia e loro sono... Non esiste la sua corsia. Sono loro nella corsia sbagliata. No, non è... Cosa fa? Scusate, guarda. Anche qui in mezzo sto passando. Guarda che sorpassi. Ma sono bravissima. Ma la dà la patente, quindi? No! Perché no? Oh, scusa, scusa. E' morto. Come lo giustifichi questo? Vediamo, sentiamo un po'. Stavo facendo le prove di primo soccorso. Vedi, quando lo investi lo lasci lì e poi arriva la polizia. No, si deve fermare nel caso. No, era così. Si deve fermare e chiamare un'ambulanza. Ma l'insegna Giulia di questo. Non dica queste cose in giro. No, è vero. Altrimenti mi sono a dare un dollaro ogni ora. Aspetta, e poi si sta potendo fare anche queste cose. Guarda. Ho sbagliato. Volevo fare un testacoda ma non mi è uscito. Lì, è pazzo. Io me ne vado. Io me ne vado. Mi ritiro. Si permette di nuovo di abbandonarmi. Non ce la faccio più. No, non mi vesta. La prego. Venga qui. Scappo. Perché? Dov'è finito? No. Mi dispiace. Io l'avevo avvertita. Lei non ci crede. Non mi è piaciuta molto questa lettera. Cambia lavoro. A me non è piaciuta, magari. E' la cliente peggiore che ho mai avuto. Comunque adesso quando rinasce, se mi porta tipo una pizza, io seri felicissima. Adesso sono pure un consegna pizza. Hai detto che vuoi cambiare lavoro. Te lo sto trovando. Non ti piace? Ne vuoi un altro? Quanto vengo pagato? Allora, se non ti piace, puoi farmi i capelli. Magari diventi parrucchiere, dai. Ok. E i capelli rosa intintati come la tutta. Mi lasci stare. Mi lasci stare. Ho cambiato idea sul mio lavoro. Comunque ci fermiamo così per questo video. Speriamo che vi sia piaciuta questa idea. E' un format davvero carino e stupido. Perché non c'è altro modo di definirlo, secondo me. E' bellissimo. Che potrebbe essere davvero simpatico. Se vi piace, votatelo nei sondaggi. Fateci sapere nei commenti, facendo tantissimi commenti. E nel caso, proponeteci che cosa vorreste vedere simulato da Steph e Ferinichi, sia su GTA che su altri giochi. Potrebbe essere, cosa ne so, il babysitter. Potrebbe essere... E dove lo vuoi fare il babysitter? Non lo so. E' la prima cosa che mi avete in mente. Poi se è fattibile o meno, non lo so. Come si fa un primo... Magari trovate anche il gioco dove si può fare. Simulazione di un primo appuntamento. Potrebbe essere bellissimo. No, finisce male. Oppure è una lezione di tennis. Tante, tante, tante cose. Quindi proponeteci nei commenti qualcosa di simpatico. E ci fermiamo così. Bene che se vi scusesse il gioco, lasciateci un like. E se è la prima volta che vedete il nostro video, potete considerare il video di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima! Ciao, ciao!